Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi lavoriamo sulla strategia di uno di voi ascoltatori, Di Lorenzo, che ha inviato una domanda dal momento che lui lavora nel settore automotive, in un business locale, e vorrebbe aiuto per lo sviluppo della sua strategia digitale. Prima di ascoltare la domanda dalla viva voce di Lorenzo, voglio ricordare che ognuno di voi può inviare le sue domande. Come si fa a inviarle? È molto semplice. Come registrare una nota audio su WhatsApp? In questo caso su Telegram, scrivendo a telegram.me slash Giulio Gaudiano, o se state su Telegram mi cercate Giulio Gaudiano, tutto attaccato, e potete inviarmi direttamente i vostri messaggi. Magari mandate un messaggio di chat, battete un colpo prima, ci salutiamo, e poi mi mandate la vostra domanda. È molto semplice farlo e per me è un grande piacere. risponderà le vostre domande, perché portano le vostre domande la strategia digitale, che a volte può essere teoria, nella pratica. E io ho grande gusto a lavorare nella pratica, a sporcarmi le mani con i problemi reali, concreti, non la teoria, non le lezioni in aula. Detto ciò, voglio ringraziare i nostri produttori esecutivi, in particolare Roberta, Federico, Daniele, Erika, Mariano, Gianluca, Maura, Marco e Daniele. E questi sono i nomi dei produttori esecutivi, di coloro che hanno scelto di finanziare con un importo piccolo, grande e poco importa, il nostro podcast. Grazie a loro lo state ascoltando. E anche grazie a te che mi stai ascoltando, perché potresti essere tu oggi ad andare su youmediaweb.com slash finanzia e a decidere di passare dall'altra parte, di passare da chi ascolta solamente, a chi crea questo podcast con il suo contributo economico mensile. Ringrazio tutti i produttori e ora è il momento, come dico io sempre, bando alle ciance, è il momento di scoprire come creare una strategia digitale per una concessionaria. Ciao Giulio, buongiorno. Abbiamo una concessionaria auto con officina. Volevo sapere, visto che non ne avevi mai parlato durante le puntate, che cosa potremmo fare come online e offline, per quanto riguarda la strategia digitale, sia per la vendita che per il post vendita della concessionaria. Grazie e buon lavoro. Grazie Lorenzo della tua domanda. Mi piace molto come l'hai posta, perché da come l'hai formulata, si capisce già che hai le idee chiare, sei messo sulla buona strada. Hai parlato di online e offline, e sapete bene che io vedo sempre queste due realtà strettamente integrate, e hai parlato di vendita e post vendita, perché sapete bene che nella mia visione non esiste il classico imbuto, non c'è un percorso che finisce con la vendita, ma il percorso è circolare, perché l'importante non è vendere un prodotto, ma è guadagnare un cliente, perché il cliente ci porterà nel tempo un valore enorme, perché sarà in grado di comprare, ricomprare, ricomprare, ma soprattutto comprare, promuovere, cioè parlare ad altri, diffondere l'utilità e il valore dei nostri prodotti o servizi, e ricomprare e parlare, e ricomprare e parlare. Quindi è in grado un cliente guadagnato, in quel percorso di vendita e post vendita, come dice Lorenzo, di produrre un enorme valore. Quindi complimenti Lorenzo, perché sei un buon punto di partenza. Come lavoro io di solito? Quando mi viene portato un problema di questo genere, non cerco le tecnologie, non cerco di... Per esempio, non dico, beh, allora che cosa possiamo fare su Facebook? No, non funziona così. Faccio un passo indietro e mi chiedo, di che cosa hanno bisogno i miei clienti? Quindi Lorenzo lo chiedo a te, di che cosa hanno bisogno i tuoi clienti? Individuo dei bisogni, faccio tutta una lista in modo da poter distinguere tra bisogni primari e bisogni secondari e metterli in ordine di priorità, ma individuo dei bisogni che mi consentano di strutturare la mia strategia in base a uno specifico bisogno. Quindi non ha un target, non ha delle caratteristiche demografiche, non ha il posizionamento del prodotto, ma ha i bisogni dei miei clienti. E quando ho già dei clienti, parto realmente molto avvantaggiato. Quindi rispetto a una startup, un business che sta girando da anni, magari tra mille difficoltà di qualsiasi tipo, ma comunque ha già dei clienti, parte molto avvantaggiato, perché in qualche modo può riconoscere i bisogni delle persone che incontra ogni giorno. Non se li deve inventare, non li deve andare a cercare in giro. Quindi un bisogno potrebbe essere, premetto Lorenzo che io non sono addentro nel tuo settore, quindi potrei nello specifico dire delle stupidaggini rispetto ai bisogni, però ho provato a immaginare tre bisogni principali. Il primo potrebbe essere confrontare le vetture, confrontare i prezzi. Io quando a giugno sono venuto in Italia, non avendo la macchina qui, ho dovuto acquistare una macchina. Ho tre figlie, una moglie, per cui siamo abbastanza da riempire una macchina. Stavamo cercando una sette posti. E abbiamo cominciato a girare per concessionari auto cercando una sette posti. Ecco, la visita tipica era, conoscere il venditore, vedere i modelli a disposizione, provarli, vedere se c'era possibilità di avere l'optional in più su questo, oppure lo sconto su quell'altro. E poi il venditore ci lasciava una scheda del veicolo. Quando dicevamo, scusi, potremmo avere un appunto sulle caratteristiche di questa vettura? Il venditore diceva, un attimo vado a prendere in ufficio la scheda e ve la porto. Questa necessità di avere la scheda è legata alla necessità di confrontare più modelli, perché non è che abbiamo visitato un solo concessionario. Allora, nella visione del venditore, ci potrebbe essere, no, io voglio tenere tutto qui, voglio, non voglio mandare le persone agli altri concessionari. Ma se li mando agli altri, il cliente va via, vola via, io lo voglio tenere qui, bello ingabbiato, non deve andare via, lo devo tenere qui. E invece no, come, più lo lasci andare, più il cliente torna, si è creato valore per lui. Che cosa voglio dire? Io per esempio sono tornato tre volte da un concessionario, dallo stesso, dopo averne visitato altri, perché era quello che in maniera più tranquilla, senza tentare di vendermi per forza le vetture, mi aveva spiegato le differenze tra i modelli, mi aveva dato dei consigli che mi erano sembrati disinteressati, mi erano sembrati competenti, mi erano sembrati appassionati. Quindi sono più e più volte ritornato proprio in quel concessionario che in qualche modo mi aveva dato più elementi per poter andare da altri e in maniera più documentata informarmi sulle vetture disponibili. E questo è fondamentale perché anche se io non ho comprato da lui la macchina alla fine, l'ho comprata da un amico, cioè è spuntato a fare un amico che mi ha detto guarda devo cambiarla se vuoi ti vendo la mia, quindi non mi sono proprio servito da un concessionario, mantengo di quel concessionario un ricordo estremamente positivo tant'è vero che oggi ve ne sto parlando. Siete in 30.000 ad ascoltare questo podcast, 30.000 persone stanno ascoltando che c'è un concessionario a Roma in Viale Tirreno che non tenta di spingerti per forza alle macchine ma ti spiega le loro caratteristiche mettendosi dalla tua parte. Quindi pensate a questa potenzialità enorme che ha il creare valore per le persone a prescindere dalla vendita istantanea. Allora se il bisogno è confrontare le vetture e i prezzi anche tra vari concessionari voi potete dargli le vostre schede con tutte le caratteristiche magari questo già lo fate offline già lo fai Lorenzo offline ma ti consiglio di spostare questa attività online. Come fai a spostarla online? Beh molto semplicemente crei la tua scheda in PDF lo puoi fare con un programma diciamo se non sei esperto di programmi di grafico in paginazione puoi usare un programma per creare le presentazioni PowerPoint o Keynote se hai Mac e esporti la singola slide in PDF creando la tua scheda tutta carina con il tuo logo tutta bene ordinata. Addirittura se vuoi un template super professionale vai su Fiverr fiverr.com e ti fai fare da un designer per 5 dollari un template della tua scheda gli spieghi che cosa ci devi fare quali sono gli elementi sempre presenti sulla scheda e il designer creerà il tuo template da usare e riutilizzare all'interno del tuo programma di grafica o del programma per creare presentazioni. Questa scheda in PDF gliela mandi via email quindi gli dici quando loro ti chiedono la scheda se mi lasciate la vostra email vi mando la scheda di tutte le vetture che abbiamo visto con le fotografie a colori in modo che possiate e i prezzi delle vetture in modo che possiate confrontarli e tenerne memoria in questo modo tu crei valore per loro perché gli dai tutte le schede risparmi perché non devi stampare al minimo stampare schede in bianco e nero bruttissime dove il logo della tua concessionaria si vede male la foto non si capisce bene che cosa c'è sopra invece gli puoi mandare addirittura un PDF magari con una o più foto nella seconda pagina e tutte le caratteristiche della vettura nella prima pagina per esempio cioè puoi creare dei media più ricchi che diano che risaltino all'attenzione delle persone che vengono da te magari ottimizzato già il template per essere visto su iPad o su tablet su uno schermo più piccolo quindi già offri diciamo un'esperienza più ricca più memorabile quindi crei un servizio per le persone risparmi sulla stampa sul fatto a volte mi è successo che i concessionari mi dicevano guardi le do questa perché questa scheda qui dell'altra vettura non ce l'ho magari la stampo un attimo ecco non devi ti alleggerisci di tutta la gestione di questa cosa di tutta questa carta che passa in ufficio del toner di tutte queste cose rendi tutto digitale e allo stesso tempo detto fra noi fai lead generation perché sei in grado di salvare il nome della persona la sua email di metterla in un tuo archivio personale e di continuare per esempio l'opera di vendita via email perché gli puoi mandare la scheda e poi dopo due giorni mandare la possibilità di avere uno sconto su quella macchina o un'ulteriore informazione o l'informazione che quella macchina che hai disponibile sta per essere richiesta e quindi sono le ultime ore per ordinarla cioè puoi utilizzare tutte le leve del marketing anche quello il marketing proprio classico la scarsità oppure l'imitazione degli altri puoi mandare un'email dove dici guardi siccome era interessata a questa vettura le mando il parere di Franco Rossi che l'ha acquistata da noi il mese scorso e ora dopo un mese dall'acquisto pensa questo della vettura e gli mandi il parere di un altro cliente magari o nel post vendita con quella stessa email puoi chiedere a lui il parere per utilizzarlo come strumento per convincere altri clienti quindi puoi realmente spostare la relazione e l'identità del tuo cliente dall'offline all'online gestendolo con un CRM per esempio oppure lo puoi gestire diciamo a manina semplicemente salvando l'indirizzo utilizzando MailChimp per mandargli le email oppure direttamente scrivendogli personalmente se la cura personale del cliente è quello che ti interessa ma con tutte queste email potrai anche strutturare delle campagne per esempio con 50 indirizzi di 50 persone che sono passate per il tuo concessionario a chiedere informazioni sulle vetture potrai approdare su Facebook e fare una campagna Facebook advertising su un pubblico simile alle persone che sono passate dal tuo concessionario e quindi restringere molto il campo e ottimizzare il tuo investimento avendo facendo fare il lavoro sporco a Facebook che in quel caso prenderà le email andrà a vedere chi sono queste persone e su questa matrice demografica e comportamentale creerà un pubblico di tuoi potenziali clienti ai quali far vedere la pubblicità del tuo concessionario del drive test insomma delle attività che hai fatto degli eventi quindi primo bisogno l'abbiamo soddisfatto e abbiamo portato valore anche a te in termini di risparmio sulla gestione dei processi sulle forniture ma anche in termini di possibilità di fare marketing il secondo bisogno potrebbe essere manutenere la macchina hai detto che avete anche l'officina una persona che compra la macchina poi vuole tenerla perfetta vuole tenerla pulita vuole tenerla in funzione deve fare i tagliandi allora da una parte avere il contatto con le persone ti consente di riagganciarle periodicamente per esempio in qualsiasi software di email marketing puoi dire di media il tagliando si fa che ne so dopo tre mesi dall'acquisto della vettura ti scheduli un invio di email dopo due mesi e mezzo e gli dici ti ricordiamo che bisogna fare il tagliando controlla i chilometri della tua macchina se hai raggiunto questo range passa da noi in officina e per te uno sconto del 10% sul tagliando e qua tu gli hai creato valore gli hai fatto capire che non sei sparito dopo aver venduto la macchina hai portato un cliente alla tua officina lo hai fatto ritornare da te quindi attraverso l'email puoi anche migliorare la gestione di questa necessità del mantenere la macchina ma puoi anche creare dei video tutorial allora mentre prima facevi lead generation il secondo obiettivo questa seconda strategia basata sul bisogno manutenere la macchina è una strategia di latent semantic indexing che possiamo chiamare più volgarmente SEO ottimizzazione per i motori di ricerca perché pubblicherai dei contenuti sul sito web della tua concessionaria e farai content marketing con questo content marketing riuscirai a carpire l'attenzione dei nuovi clienti che vanno a cercare come pulire lo specchietto della Y10 non lo so e dall'altra parte potrai continuare a mantenere altro l'engagement l'interesse la sensazione che li stai seguendo e creando valore ai tuoi clienti a quelli che sono già tuoi clienti il mio consiglio è di farlo con dei video tutorial quindi girare dei video portare questi video su youtube e embeddarli all'interno del tuo sito del blog della tua concessionaria o del sito web della tua concessionaria creando un articolo per ogni video tutorial in alternativa se proprio sei allergico al video potresti creare un tutorial fotografico quindi le foto e la spiegazione testuale di come fare può essere diciamo una versione digitale del libretto di istruzioni fatto non da chi ha costruito la macchina ma da chi ha a che fare con queste macchine tutti i giorni la terza strategia nasce dalla necessità di scoprire accessori miglioramenti da fare sulla macchina ecco io per esempio ho acquistato questa macchina e ora ho la necessità di cambiare l'autoradio perché non ho un autoradio che si connette al telefono via bluetooth e io utilizzo il telefono lo smartphone per ascoltare la musica quindi ho bisogno di cambiare l'autoradio se tu che mi hai venduto la macchina sei in grado di informarmi sul fatto che è uscita questa autoradio o che c'è su amazon quest'altra autoradio in offerta che tu sai che è molto buona insomma facendo delle reviews oppure facendo delle interviste a persone che mi possono aiutare nel miglioramento della mia macchina quindi magari qualcuno al meccanico Renault che spiega che le Renault hanno un problema con la frizione invento un problema con la frizione che si può evitare facendo spostando il sedile leggermente più avanti e quindi avendo una pressione sul pedale più decisa ecco pura fantasia quindi facendo delle interviste a persone competenti o facendo delle reviews di oggetti accessori anche che non vendi tu direttamente ma glieli consigli su amazon detto tra noi potremmo anche utilizzare il programma di affiliazione amazon vai a creare ulteriore valore per migliorare quello che gli hai consegnato nelle mani al cliente quindi migliorare la macchina ma vai anche a dimostrare al mondo che tu sei realmente appassionato a proposito delle macchine you are patient about cars cioè sei proprio coinvolto è la tua passione non ti fingi appassionato ma lo sei realmente allora quell'obiettivo di questa strategia è creare engagement e community quindi lo potresti fare su facebook allora per riassumere queste tre esigenze tu vai a perseguire tre obiettivi diversi la lead generation che ti consente di mantenere il rapporto col cliente quindi acquisizione degli indirizzi e dei dati al cliente latent semantic indexing quindi e content marketing quindi qualcosa una strategia che nel lungo termine mentre la lead generation va a lavorare nel breve termine nel lungo termine medio e lungo termine va a crearti la possibilità di acquisire nuovi clienti e l'engagement la community building attraverso i social media che ti dà la possibilità in maniera soft quindi senza mandargli magari un'email ogni volta ma di agganciare l'interesse e il coinvolgimento dei clienti che sono rimasti più contenti più coinvolti e di colpire di andare a indirizzare anche sui loro amici il tuo messaggio commerciale tre strategie diverse che nascono da tre esigenze diverse naturalmente sviluppabili potenzialmente all'infinito siamo arrivati alla fine di questa puntata vi ringrazio per le vostre domande che sono sempre interessantissime e vi ringrazio anche per le vostre recensioni bellissime su iTunes piene di complimenti ma anche di informazioni utili per noi che creiamo il podcast per migliorarlo per ottimizzarlo sempre di più e renderlo uno strumento più efficace per il vostro business il vostro marketing e la vostra editoria online vi ricordo che il link per lasciare una recensione o meglio il link del video tutorial per lasciare una recensione sta nelle note dell'episodio come anche tutti i link nominati nel corso di questa puntata rispetto a tutti i servizi che potrebbero essere utili a voi che dovete creare la vostra strategia ma soprattutto a Lorenzo in questo caso che aveva una necessità ben precisa io ringrazio Sara Veltri codice del programma il nostro fonico Costanza Mineo e RadioSpeaker.it curatore del nostro Sound Design grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille